bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sono uscite dei nuovi leaks per quello che riguarda le novità che incontreremo in questi giorni sul nostro fortnite abbiamo visto ragazzi che grazie a un dataminer americani xyuder cos'è un dataminer un dataminer ragazzi è qualcuno che riesce a intrufolarsi nel codice sorgente del gioco e a recuperare delle informazioni che dovranno ancora essere rese pubbliche abbiamo già ragazzi visto le nuove skin che prestissimo potremo acquistare nello shop ci saranno i sub ci sarà un tipo con una maschera stranissima forma di pesce ci saranno un sacco di cose molto molto interessanti che andremo comunque ad analizzare sempre sul canale beh ragazzi però nessuno ancora ha visto i nuovi balli che arriveranno nelle prossime settimane questa mattina ragazzi abbiamo visto il ballo potenza stellare l'unico dei cinque nuovi balli epico che molto abiguo diciamo come ballo divertente niente da dire un pochettino particolare comunque molto molto fico beh ragazzi oggi volevo vedere insieme a voi i nuovi balli però eccoli qua i nomi sono ancora in inglese in italiano non sono riuscito a tradurli quindi ce li vediamo così in inglesi via col primo questo si chiama bendy sembra un mimo sembra ballettini abbastanza così yet il secondo ballo così clapper questo ovviamente in tema film ciac si gira si chiama anche ciac 14 pop dance la chiamano in inglese per noi è la star dance la disco adesso non mi ricordo come si chiama se c'è il coso e come ultimo ragazzi lo snap beh ragazzi questi erano i cinque nuovi balli che troveremo ben presto disponibili nel nostro shop su fortnite ho scoperto anche un sacco di altre cose interessanti e riguardante il futuro di fortnite se volessimo essere un pochettino più precisi la stagione numero 5 ancora non vi dico niente prenderò le mie dovute informazioni e ovviamente vi terrò aggiornati qui sul canale beh ragazzi io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale e di condividere la vostra iscrizione su tutti i vostri social con i vostri amici più amici ci sono iscritti e più c'è la possibilità per voi di portarsi a casa un bel buono da 10 euro noi ci vediamo in live ciao 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 ciao